La Cronaca Nazionale Nonostante una precedente denuncia, l'uomo ha continuato a perseguitare e minacciare l'ex moglie. Ieri è finito agli arresti domiciliari. Si chiama Alberi d'autore in aeroporto, la manifestazione che ha inaugurato ieri la sua prima edizione nello scalo catalano. Cinque tra artisti e associazioni hanno creato ed esposto il proprio albero di Natale. Le opere abbelliranno lo scalo per tutto il periodo delle festività. Ai nostri microfoni il presidente della Sogea Luzzatti e due artisti espositori. Per lo sport spazio al golf si è infatti concluso il campionato sociale che si svolge ogni anno nel Golf Club Alghero. Vincitore del 2013 Alessandro Isoni che pratica questo sport da soli 20 mesi. Tra le donne conferma Perrina Renna. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'informazione quotidiana su Catalan TV. Come avete sentito dai titoli del nostro sommario apriamo il telegiornale con una notizia di cronaca. Un impiegato algherese è stato infatti arrestato dai carabinieri per atti persecutori. Il quarantenne, nonostante avesse già ricevuto una denuncia per minacce e molestie nei confronti dell'ex moglie, ha continuato a perseguitare la donna. Ma per lui sono scattati ieri gli arresti domiciliari. I carabinieri del comando provinciale di Sassari ieri mattina hanno arrestato RP, queste le iniziali di un impiegato quarantenne algherese, per atti persecutori. In base al racconto degli stessi militari, l'uomo era stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Alghero nell'aprile di quest'anno, a seguito di una serie di minacce e moleste portate avanti per mesi nei confronti della ex moglie, una trentenne. Nonostante la denuncia e il provvedimento che gli imponeva di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna, l'uomo ha continuato a mantenere gli stessi atteggiamenti provocatori e minacciosi, perseguitando la donna anche nel tragitto casa-lavoro. Questa situazione è stata puntualmente verificata dai carabinieri, che hanno provveduto a relazionare quanto accadeva all'autorità giudiziaria, sollecitando misure più stringenti verso quest'ultimo. Queste sono state individuate negli arresti domiciliari, eseguiti nella giornata di ieri. Esprimo soddisfazione per l'approvazione della legge che, in attesa dello svolgimento dei concorsi, consente il proseguo e non la proroga delle attività dei lavoratori precari dei centri CSL, CESIL della formazione professionale e dei centri antinsetti. Lo ha dichiarato Antonello Peru, consigliere regionale del PDL. Con questa legge prosegue e si fa chiarezza sulle scelte che il Consiglio regionale Tutto ha inteso portare avanti riguardo queste vertenze in atto ed evitare ogni interpretazione contraria allo spirito originario, che poteva essere avanzata dall'apparato burocratico regionale. Ulteriore soddisfazione è stata espressa da Peru per i circa 30 lavoratori CSL CESI della provincia di Sassari, i quali, rispetto ai colleghi del resto della Sardegna, hanno vista risolta la loro condizione con circa 15 mesi di ritardo. Arte e musica all'aeroporto di Alghero. Lo scalo catalano propone in questo periodo di Natale, oltre ad alcuni momenti musicali, anche delle iniziative interessanti che riguardano l'arte. Presentata ieri sera la prima edizione della manifestazione Alberi d'autore in aeroporto, che vede protagoniste le opere di diversi artisti e associazioni. Si chiama Alberi d'autore in aeroporto, la manifestazione organizzata dalla SOGEAL nello scalo catalano. L'obiettivo è quello di esporre le originali creazioni artistiche, ispirate naturalmente al tema natalizio, da parte di artisti ed esponenti della moda, arte e design del territorio. Ieri sera si è tenuta la presentazione proprio all'aeroporto, in concomitanza anche con il concerto dedicato ai 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi, che ha visto l'esibizione dell'AP clarinet band. Anche questo momento musicale è stato voluto dalla società di gestione dell'aeroporto di Alghero, in collaborazione con l'associazione culturale musicale Lipsis. E proprio le creazioni di ben 5 artisti hanno fatto da splendida scenografia al concerto, tenutosi nel giardino mediterraneo dell'area check-in dello scalo catalano. Ogni artista ha proposto il suo albero di Natale. Ognuna delle opere rispecchia naturalmente l'arte e la fantasia di ognuno di loro, e ovviamente diversi significati. Gli artisti che hanno aderito all'iniziativa sono Tonino Serra, Flower Interior Designer di fama internazionale, Silvana Secchi, formatasi presso la Scuola Internazionale della Moda di Roma, Laica, Associazione Cardiopatici Congeniti Adulti, Roberta Filippelli, che propone un'idea di mondo sommerso e delle sue forme, e l'Unicef, con un albero tutto fatto di angioletti di stoffa. Dunque una prima edizione che vanta artisti conosciuti per le loro creazioni ed opere, non solo ad Alghero, opere che potranno essere ammirate all'interno dell'aeroporto, visto che resteranno esposte per tutto il periodo delle festività. E di queste belle iniziative in aeroporto, che uniscono arte e musica, ne abbiamo parlato intanto con il presidente della SOGEAL, Carlo Luzzatti. Siamo in compagnia del presidente della SOGEAL, Carlo Luzzatti, un altro avvenimento qui in aeroporto, un evento musicale, anche un'esposizione comunque di opere, di artisti in tema natalizio. Certamente. È una bella iniziativa, oltre quelle che già abbiamo fatto di incontri, diciamo così, culturali, dedicati soprattutto alla musica classica, eccetera. Quest'anno abbiamo fatto questa iniziativa di alberi d'arte. Qui ne vediamo alcune dimostrazioni, sono molto interessanti. Poi vi dirò gli autori. perché noi, come il nostro obiettivo è quello, l'ho detto già tante volte, di fare di questo luogo un luogo d'incontro e non, come si diceva una volta nell'aeroporto, un non luogo. Questa iniziativa è un'iniziativa a carattere assolutamente benefico. Quest'anno noi non abbiamo chiesto agli autori di lasciare le loro opere a disposizione. Lo chiederemo per l'anno prossimo, in modo tale che poi queste opere possano essere vendute e ricavate, ovviamente andrà in beneficenza. Non solo arte, ma anche musica. Arte e musica, con il maestro Cesar Accio, che poi illustrerà quest'anno, come sapete meglio di me, il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e quindi la maggior parte, quasi tutto quello che sentirete, è tratto dalle magnifiche opere di Verdi. Spazio adesso alla descrizione di due dei cinque alberi di Natale d'autore esposti all'aeroporto. Abbiamo intervistato l'artista Silvana Secchi e il rappresentante dell'AICA Alghero, Francesco Biosa. Silvana Secchi, lei è una delle artiste che ha esposto il suo speciale albero di Natale qui all'aeroporto, nella rassegna, praticamente esposizione, chiamata Alberi d'arte. È bellissimo, è in tema marino, ce lo vuole spiegare? Questo albero è molto semplice, praticamente è creato con quello che la natura ci regala. Praticamente i legni, la paglia marina, le conchiglie, il corallo, il nostro corallo rosso, il nostro corallo di Alghero. E così ho pensato di creare questa opera perché, secondo me, gioielli così naturali non si comprano, quindi trovarli è anche una fortuna. Per voi artisti è sicuramente un orgoglio poter esporre qui all'aeroporto le vostre opere? Sì, oltre che un orgoglio è anche un onore. Rappresentiamo la città di Alghero con il corallo e con le sue meraviglie. Dunque una pubblicità per Alghero? Anche sì, certo. Francesco Biosa dell'Associazione AICA, Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Adulti di Alghero, anche voi siete presenti qui all'aeroporto con il vostro albero. Sì, per noi è stato un immenso onore poter partecipare a questo evento e siamo qua. Alla fine voi avete un albero che, visti gli altri, è comunque un po' più tradizionale, diciamo. Sì, è un po' tradizionale anche perché poi abbiamo messo tre argomenti che identificano il nostro scopo dell'Associazione. Una casetta dove si intende la famiglia, il cuore dove la vita è anche il nostro simbolo e poi il gufo, avere la fortuna nella vita come l'ho avuta io e molti altri pazienti cardiopatici congeniti. Arrivare. Doppio appuntamento con la fotografia naturalistica domani, venerdì 20 dicembre, dalle ore 16 a Casa Gioiosa, sede del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. È prevista infatti la premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso di fotografia naturalistica del Parco di Porto Conte e contestualmente la presentazione del calendario del Parco 2014 che si compone appunto delle foto dei vincitori di questo concorso fotografico. A seguire, l'inaugurazione della mostra della Lipu Sardegna dal titolo Ali, il lungo viaggio dei popoli migratori. Un pomeriggio quindi tutto dedicato agli scatti di natura, agli appassionati appunto di fotografia. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco. E ritorniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Come detto più volte, questo del Natale è un periodo in cui sono numerose le iniziative organizzate dalle scuole algheresi che vedono protagonisti i bambini. Domani alle 15.30 al Teatro Civico di Alghero, la Fondazione Lavagna metterà in scena il suo tradizionale spettacolo natalizio. È stata la maestra Gianna Filippelli a parlarci del lavoro teatrale che viene portato avanti per tutto l'anno. Maestra Gianna Filippelli questa mattina a CatalanTV è venuta fino al Teatro Civico di Alghero dove lei insieme alle altre maestre e i bambini naturalmente della Fondazione Lavagna state preparando il recital di Natale. Qual è l'argomento di quest'anno? Allora Dio ha deciso di togliere tutti i colori alla terra perché gli uomini si sono comportati male e i bambini salveranno con una loro lettera la situazione. Chiaramente tutto con gag divertenti, balli, canti, danze e così via. Balli, canti, danze, gag divertenti frutto del lavoro del laboratorio teatrale di tutto un anno. Esatto, il laboratorio teatrale che durante l'anno viene svolto dai bambini di terza, quarta e quinta che dà come risultato il recital natalizio natale, la festa della solidarietà a fine anno che appunto vede i bambini impegnati in balli, canti e anche strumenti musicali. Chiaramente tutti gli insegnanti hanno lavorato alla realizzazione di questo recital i genitori che sono venuti qua ad aiutarci per scenografie e cose varie. È un momento magico per noi e per la Fondazione Lavagna che ha la possibilità di godere pieno di questo risultato. E restando in tema, domani venerdì 20 dicembre alle 20.45 presso la chiesa di San Francesco si terrà il concerto Dormi Dormi che esnaral un excursus di canti algheresi tradizionale organizzato dall'associazione Pantarei ed inserito fra le iniziative del comune di Alghero e della Fondazione Meta per i festeggiamenti del Cadean. Canteranno due gruppi e alcuni solisti. I Pantarei eseguiranno brani tradizionali antichi tra cui l'Usagnal del Giurissi o Cann della Sibiglia che nel 2010 dall'UNESCO è stata dichiarata patrimonio immateriale dell'umanità. Il direttore artistico Antonello Colle d'Anchise ha voluto inserire nel repertorio anche brani particolarmente preziosi della tradizione. Canteranno inoltre Tiziana Miloni, Arianna Cocozza, Stefania Ambroggia e Marco Cherchi. partecipano al concerto anche i Mini Pantarei, un gruppo formato da bambini della scuola primaria del Plesso di Sant'Agostino coordinati dalle loro maestre. E domenica grande evento musicale a Cagliari che vede coinvolte in realtà anche di Alghero come la manifestazione versatile. si chiama Dance for Life, un'isola che balla. Evento a scopo benefico per l'alluvione del 19 novembre in Sardegna. Nella discoteca Coco, dalle ore 16 fino alle 5 del mattino si esibiranno alcuni tra i DJ più famosi al mondo proprio a sostegno della nostra isola. Ascoltate. La Sardegna colpita nel cuore, un'isola travolta da una vera e propria bomba d'acqua. L'alluvione che ha distrutto interi quartieri e messo in ginocchio diverse comunità è cancellato un triste numero di vite. Un disastro immane, ma i sardi ancora una volta colpiti al cuore si rialzano e sono pronti nuovamente a combattere per la propria terra. Il popolo sardo reagisce, oltre che con un'immensa macchina della solidarietà, con la presenza fisica sul posto di tanti volontari, si rialza grazie anche alla musica. Ed è così che un gruppo di operatori culturali nell'ambito del clubbing, in particolare Shardana di Ibiza, Bass Station Cagliari, Night Sounds di Cagliari, Loves Club di Oristano e il versatile di Alghero, insieme ai DJs e supporters, ha deciso di passare anche in questo caso dalle parole ai fatti. Dagli scambi preoccupati sulle condizioni dei vari territori di residenza, fino al chiedersi cosa fare, fino all'idea di un evento per la Sardegna. Tutti insieme, anche chi per anni ha lavorato per situazioni e luoghi diversi, uniti per la nostra terra. Domenica 22 a dicembre a Cagliari, presso il Cocodisco Club, che ha gentilmente supportato l'evento. Questa data è il luogo in cui si svolgerà l'appuntamento completamente benefico, il cui ricavato sarà destinato alle popolazioni colpite attraverso conti correnti bancari, verificati e regolari. Dalle 16 fino alle 5 del mattino, una maratona musicale con alcuni tra i migliori DJ isolani, nazionali e internazionali, in uno spazio che potrà contenere tutte quelle persone che credono nella musica, anche come mezzo sociale, oltre che culturale. Un popolo pronto anche a danzare per far risorgere la Sardegna, la Sardegna che abbiamo nel cuore. Il ricavato dell'evento verrà devoluto alla scuola materna Maria Rocca di Olbia, fortemente danneggiata dall'alluvione, tramite il Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Cagliari per la ricostruzione e l'acquisto di materiale didattico. E per lo sport parliamo oggi di golf. Si è infatti concluso il campionato sociale che si svolge ogni anno nel Golf Club Alguero. Vincitore del 2013 è stato Alessandro Isoni, che pratica questo sport da soli 20 mesi, ma che è riuscito a sbaragliare la forte concorrenza tra le donne, conferma Perrina Renna. Si è concluso lo scorso fine settimana il campionato sociale 2013 del Golf Club Alguero. Il vincitore della scorsa edizione, Ennio Asuni, ha ceduto il titolo ad una new entry. Infatti c'è da registrare un nuovo vincitore che stravolgendo i pronostici si è giudicato il primo posto nella classifica. Si tratta di Alessandro Isoni, 31 anni, golfista da soli 20 mesi. Per la prima volta quest'anno ha partecipato al campionato organizzato annualmente dal club algherese e su oltre 40 golfisti si è prima classificato quarto tra gli otto finalisti, giungendo dunque in finale insieme all'abilissimo undicenne Andrea Saiu, al presidente del club Antonio De Logu, a Gianluca Musilli, Franco Puddu, Mario Conoci, Sebastiano Saiu e John John Bilbao, vincendo poi la finale e la finalissima che si sono svolte sabato 7 e domenica 8 dicembre. Il campionato sociale, suddiviso nelle categorie maschile e femminile, ha una vincitrice anche tra le ladies. Per la categoria delle donne infatti il primo posto se lo è giudicato la forte Rina Renna. Reggio c'è tra l'altro insieme a Roberto Coinu di un'altra importante vittoria ottenuta invece al campo di Isa Renas. Questa la classifica generale del campionato sociale 2013 del Golf Club Alghero, quindi entusiasmo e partecipazione, ma soprattutto profonda passione per il golf hanno caratterizzato questo campionato iniziato a giugno scorso sul campo dell'Arenosu. La chiusura è stata inoltre occasione per ricordare con immenso affetto Leonardo Manca, appassionato golfista e vicepresidente del club recentemente scomparso. Partecipatissime infine anche le due gare ultime di campionato che si sono svolte a novembre e che hanno determinato la classifica degli otto giocatori entrati nella finale del weekend scorso. Si è trattato dei trofei Nims e Milese. E il Golf chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle provisioni del tempo per domani. Grazie per averci seguito. Arrivederci.